Parte da Raiano la solidarietà verso gli allevatori messi in ginocchio dalla neve e dal sisma che rischiano di perdere anche il loro patrimonio più importante, il bestiame. Dietro sollecitazione dell'assessore regionale e le aree interne Andrea Gerosolimo, gli allevatori pelini della cooperativa agricola Raiano, con il presidente Vincenzo Margiotta, la cooperativa agricola etalica Carlo Di Cesare e della cooperativa Anza Peter Rantica Fausto Ruscitti, metteranno a disposizione di chi non ha più la possibilità di ricoverare gli animali in luoghi sicuri le proprie strutture, che sono situate tra Raiano e Corfinio e possono ospitare fino a 100 bovini. Per informazioni contattare i numeri 393 94 68 582 e 339 4179 313. Faremo di tutto per agevolare gli allevatori in difficoltà, spiega l'assessore Gerosolimo, al momento che sono 4 o 5 le aziende che hanno bisogno di ricoverare gli animali altrove, al riguardo abbiamo dato già la nostra disponibilità a sostenere questa iniziativa degli allevatori pelini.